buongiorno quindi evidentemente la maggior parte o molta gente diciamo che ha commentato il mio video di ieri sulla juve ambiziosa non crede che la juve sia ambiziosa cioè crede che praticamente scusate crede che la juve così non voglia fare non voglia provare a vincere non voglia provare a a piazzarsi per la champions anche il prossimo anno non certo a vincere la centro perché per quella ci vorrà tanto 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 ancora tanto tempo ma se non è ambiziosa una società come la juventus non so chi lo possa essere e se non si capisce che l'ambizione non significa necessariamente essere pronti a vincere subito specialmente dopo un cambiamento ma costruire un qualcosa di graduale per arrivare a vincere e allora non si è capito il concetto di ambizione ambizione se no diventa ossessione ed è brutto poi no perché è l'estremizzazione del concetto di ambizione solo che l'ambizione ti fa ragionare l'ossessione non ti fa ragionare dai fuori comunque dai parametri del ragionamento e con l'ossessione non raggiungi proprio niente con l'ambizione sì ma l'ambizione non vuol dire schioccare l'idea poi può succedere per modo di conte nessuno immaginava che la juve avrebbe vinto lo scudetto ha vinto lo scudetto poi ne ha vinti altri otto tra conte e allegri però e sarri però sono casi diciamo eccezionali il primo scudetto l'altro gli altri sono venuti grazie ad una crescita graduale quindi secondo me insomma se non si capisce che una città come la juventus è ambiziosa vabbè dai allora l'ambizione la gradualità apparsa anche attraverso ovviamente delle situazioni magari un po incresciose perché qua ormai si è arrivati al muro contro muro tra federico chiesa e la juventus oppure tra la juventus e federico chiesa perché evidentemente se si è arrivati alla decisione di farlo allenare con gli altri esuberi è perché in questi giorni non è stato trovato un accordo e altro a sua volta è perché evidentemente degli accordi erano stati messi in piedi non parlo di rinnovo non credo proprio che si sia mai parlato di rinnovo con federico chiesa ma diciamo così magari qualche altra squadra si è fatta viva oltre al begictas non escluderei che anche la roma abbia fatto un sondaggio vista la situazione in cui sta versando con di bala anche se io non ci credo finché non lo vedo ok e detto questo evidentemente se si è arrivati a questa decisione perché appunto le due parti non hanno più trovato nemmeno una possibilità di riaprire un dialogo poi tutti i dialoghi si possono riaprire non è che c'è una preclusione definitiva al cento per cento tutto si può ridiscutere e rivedere però è quello che si diceva su chiesa già nella scorsa primavera quando si sapeva dall'arrivo di tiago motta diversi mesi prima alla fine del campionato si sta rivelando diciamo così fondato ieri mi sono espresso male parlato di carattere eccetera il scarabino ha usato un'altra espressione ha parlato di fattore economico fattore tattico e fattore umano quindi evidentemente su chiesa siano sono andati in considerazione tutti e tre gli aspetti dei quali avevamo anche parlato nei video precedenti quindi abbiamo parlato sia dell'aspetto tattico dell'aspetto economico e del fattore umano poi dicevo tutto si può anche riaprire per esempio adesso sembra che ci sia una riapertura del dialogo tra la juventus e mccenni cioè perché sembra che lui abbia aperto alla possibilità di rinnovare ovviamente alle condizioni della juventus perché se riapre la possibilità di rinnovare è alle condizioni a juventus che gli aveva proposto un rinnovo al ribasso però guarda caso tutto questo avviene o starebbe avvenendo nel momento in cui il genoa sta insistendo per avere miretti genoa che vuole rinforzare un po la zona di centrocampo miretti che adesso al momento è fermo sarà pronto dovrebbe essere pronto per il ventus roma della terza giornata oppure adesso non ho visto il genoa contro chi giocherà la terza giornata non è da escludere che ci sia un prestito per miretti al genoa per farlo giocare con continuità e quindi aprire il fronte mccenni secondo me è da mettere un pochino in correlazione con questa possibilità di un'uscita di miretti mccenni si adatterebbe sicuramente di più ad alternarsi con altri giocatori miretti evidentemente o comunque credo data l'età ha voglia necessità e voglia di giocare tanto di giocare con continuità per dare cominciare a dare un senso preciso alla sua carriera e quindi ci può stare che la juve si privi temporaneamente di miretti per dare a mccenni la possibilità cioè senza dover per forza andare a cercare sul mercato una alternativa visto che ce l'ha già in casa si tratta solo di rinnovare il contratto a determinate condizioni che poi alla juve se anche rinnovi ad una cifra più bassa poi ci sono i bonus che ti riportano in alto ecco a volte magari non si capisce bene questa cosa ma ti tolgono da una parte ci sono i bonus all'altra poi magari sono più alti quelli legati a traguardi che tu devi raggiungere quindi dimostrando il tuo impegno le tue capacità le tue doti il tuo carattere la determinazione ma se li raggiungi praticamente ti riportano forse addirittura a guadagnare più di quanto guadagnassi prima credo che funzioni così perché altrimenti i bonus non avrebbero senso o comunque quelli legati in particolare al rendimento su copminers sarebbe stata alzata l'offerta da juventus ormai direi che parlare di 52 più 7 non sono ferratissimo come sapete in aritmetica nei calcoli algebrici però 52 più 7 arriva a 59 smentite mi sono sbagliato e quindi saremmo ad un milione solo dalla richiesta dell'atalanta voi sapete che io credo che l'affare si perfezionerà voi sapete che poi bisogna attendere i comunicati ufficiali sulle cifre però diciamo che circola appunto quest'ultima scusatemi versione evidentemente insomma la juve lo vuole a tutti i costi questo giocatore no cioè se parti da 40 45 poi alzi l'offerta poi dopo il casino l'alzi ancora eccetera se metti da parte come dire l'orgoglio in un certo senso no perché io potevo immaginare che la juve a un certo punto dicesse vabbè basta cioè che cerchiamo un altro non è il caso di star qui a fare tutta questa corte a tempo combiners non è ronaldo ecco insomma però se la juve continua ad alzare l'offerta arrivando quasi praticamente a soddisfare le richieste dell'atalanta evidentemente è un giocatore ritenuto fondamentale a questo punto è il giocatore più importante diventerebbe lo diventerà non so vediamo il giocatore più importante della juve attuale non solo per la cifra ma per come ci sia arrivati quindi da qui in avanti cube miners al netto di quello che poi potrà dimostrare sarà considerato come uno degli acquisti più importanti della juventus degli ultimi anni certo non ha toccato i 94 milioni di guai ma con i guai stiamo parlando del 2016 se non valorato quindi torniamo indietro tanti tanti anni fa non ha toccato gli 80 milioni di vlaovic ma lì è stata un operazione bravissimo commisso devo dire e non ha toccato gli 82 più bonus di delict ma torniamo ancora tanto indietro cioè quando era arrivato sarri insomma abbastanza indietro quando era arrivato sarri adesso se colmai si arriverà alla juve saprà di doversi confrontare non solo con gli avversari ma anche con una cifra importantissima e dovrà essere brava la juve a metterlo nelle condizioni di non sentire troppo quel peso addosso questa è l'idea che mi sto facendo io poi fatemi sapere se siete d'accordo oppure ci vediamo questa sera tanto i temi non mancano e poi ci stiamo avvicinando la prima giornata e praticamente la formazione è fatta ma ne parliamo magari questa sera ciao iscrivetevi al canale